Tra qualche istante, via! All'inizio della curva è sempre in vantaggio Carlotta Spiri davanti a Vitesson, Golfeir, Ciquinquira, Di Montina, Roverana, Forzà, Sul Laguna Blu, Fiore Nascosto, Jutuca, Orpen Natic, Isla Mujeres e Dream of Night. All'inizio della curva è sempre in vantaggio Carlotta Spiri davanti a Golfeir, Ciquinquira e Di Montina, i cavalli entrano in dirittura con Golfeir in leggero vantaggio davanti a Golfeir, Di Montina, Ciquinquira, Laguna Blu, Roverana, Jutuca, Isla Mujeres. All'interno è Carlotta Spiri, all'esterno Di Montina tra i due Golfeir, seguono Laguna Blu, Orpen Natic, Centropista, Jutuca, Isla Mujeres, passa Di Montina davanti a Carlotta Spiri, Laguna Blu e Jutuca, in vantaggio Di Montina davanti a Laguna Blu, Jutuca, Carlotta Spiri, Isla Mujeres e Golfeir. Allora Di Montina mette tutti in salvo perché ha chiuso da favorita, 4,6 la sua quota è il numero uno, un Germano Marcelli formato capolista dei giochi e va al traguardo. Ora qui bisogna capire che succede alle sue spalle perché uno, uno, secondo il numero due Laguna Blu, terzo secondo me Jutuca che è il numero sei.